Pungolata l'amministrazione comunale di Battipaglia dal Comitato di Cittadini Prima Battipaglia per chiedere l'istituzione del Parco Fluviale del Tusciano. Nella nota stampa rilasciata dal gruppo battipagliese si ribadisce che nonostante la Regione Campania guidata dal Governatore Vincenzo Di Luca con delibera della Giunta Regionale abbia approvato il preliminare del Master Plan, il Comune di Battipaglia non ha ancora pubblicato il PUC e non si ha conoscenza se è stato recepito l'intervento dello stesso, ovvero il Parco Fluviale del Tusciano. Inoltre Prima Battipaglia lancia l'invito all'amministrazione comunale battipagliese e alla sindaca francese di attivarsi entro breve tempo per un accordo di programma con i vari enti interessati di costituire una consulta ambientale con un tavolo permanente che abbia come finalità specifica la realizzazione del Parco Fluviale del Tusciano e della quale consulta facciano parte i comitati e le associazioni interessate manifestando sin d'ora, prima battipaglia, il proprio assenso in merito alla partecipazione. Intanto, mercoledì, la sindaca francese e l'amministrazione comunale ha annunciato l'imminente adozione del PUC che dovrebbe essere illustrato sabato nell'Aula Consigliare.